Questi hanno durato due anni, tre anni, cinque anni, sei anni, sette anni, otte anni. Questo anni ott anni. Woi sei, però troppo non mi fa soldi. Mi piacciono i capire tutti i cinze anni. Chiarò sa il mio fuzzo. Perché suonano le fime? Ma ottengo, mi ricordo... Ti chiedo, semmo viene ripetere i ridi, e semmo ogni una inizia non ha fatto il mondo... e non ha fatto che era una zonina, e non c'era bene il resto, e mi ha fatto un po' di non farlo, e se non c'era ma la sua casa. E mi ha fatto che... Stai un minuto, fai un bello granzo, quando eri il tuo primo e siamo tornati a raccoglio, a una che arriva il secondo, fai fin da che ti dici ma che faciste? Fai un bagno, ma se stiamo a dire, che faciste? Fai un bagno, io dovevi dire? No, ma che gioco? Io ci fai una storia? A volte la domenica, il tuo pallone che ti hanno, pronti? Quindi, a mangiare un po' prima, la testa con una cosa, io mi dico che tutti i seduti, io ho una roba, io lo ho prendo su qui, lo vedo che ti ha fatto e dice, ai ai, ci siamo venuti facili? Mi dico che la te la città, la pasta pronta! E dice, a te, mi manca, mi taglia la mia, mi dico, è fai una cosa fatti io l'imbatio, è che stai sento a me, io mi dico, mi voglio te che carlo? Ma chiedi, a me se quel c'è, a me se fai, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te... un petto ora, ho fatto il suo più grande mi dico, va cato non vi prendiamo un petto ora un mio metodo mi fa dirvi se fai tu pizzeri il suo più grande mi chiamano pittuza, torna i grosi mani se chiesa che si caladece, ma se serve i pò, che si sveglia perciò che si piace mamma? la mamma dice, però mi raccomando un pittagliare perché papà va mettendo i culeri